I bambini non si possono tenere troppo a lungo a casa, lo affermano alcuni genitori di Pescara che chiedono di annullare l'ordinanza con cui il sindaco Carlo Masci ha disposto la chiusura delle scuole dell'infanzia. Oltre ad essersi riuniti in un comitato spontaneo con una cinquantina di famiglie aderenti, hanno presentato due giorni fa un ricorso al Tarra, come riferisce Marcello Costantini. È una motivazione normativa e l'altra motivazione sostanziale. La motivazione normativa è perché il DPCM comunemente conosciuto come DPCM Draghi, convertito poi in legge, non dà ai comuni l'autorità di disporre la chiusura delle scuole. Questa è una competenza che spetta alle regioni. Quello che è successo qui sulla riviera di Pescara è paradossale perché noi abbiamo a Pescara le scuole dell'infanzia chiuse e Francavilla, che confina con Pescara, le scuole dell'infanzia sono aperte. Questo crea una disparità di trattamento tra cittadini che vivono vicino. Io credo di interpretare la volontà del legislatore, quando ha attribuito la facoltà alle regioni, di eventualmente adottare misure più restrittive, è proprio per evitare questa disugualianza tra territori limitrofi. L'altra motivazione, quella di sostanza, è che comunque un'ordinanza, ammesso che sia legittima, deve essere supportata da evidenze scientifiche. Le evidenze scientifiche ci sono e dicono chiaramente che le scuole, gli asili nido, le scuole dell'infanzia, così come le scuole primarie, non sono la fonte principale di contagio. Anzi, mandare i bambini a scuola vuol dire facilitare il tracciamento. Facilitando il tracciamento io posso ridurre l'incidenza del virus nella popolazione. Giada Alessandrini, a chi dice che questa vostra rivendicazione è solo un modo per, tra virgolette, parcheggiare i bimbi a scuola? Lì dove i docenti, le insegnanti sono competenti e brave, i bambini crescono, sviluppano, socializzano, apprendono, cosa che non fanno in questa situazione, chiuse nelle mure domestiche, abbandonati a se stessi tra l'altro, perché anche se una mamma ha la possibilità qualche giorno a settimana di stare smart, come magari capita anche a me, comunque il bambino non può essere seguito, non possiamo chiamare babysitter, non possiamo chiamare esterni, perché comunque c'è il rischio e non ci sarebbe comunque poi una tracciabilità così come invece anche nelle scuole. Grazie. Grazie. Grazie.